Centrano cittadini tedeschi, pieno titolo, non muta questo tipo di atteggiamento da parte dell'antisemitismo. Poi, ancora, e qui la cosa si fa ancora più complicata, ma insomma qui parliamo appunto di qualcosa di molto inedito, nuovo, l'antisemitismo si adegua ai tempi e alle logiche della contemporaneità. Pregiudizio e fondamento antropologico scientista, non scientifico, scientista. Se volete capire il senso del termine, scientista, che è, potremmo dire, una visione macchiettistica della scienza, prendetevi Annaren, le origini del totalitarismo, sono sette o cento pagine, ve le leggete, ma il pregiudizio scientista è, come dire, ben argomentato. Vuol dire riprendere categorie della scienza, in questo caso qua ad esempio l'etologia, e trasporle sul piano del giudizio di valore nei confronti degli esseri umani. La formazione del pensiero razzista, che per un buon periodo di tempo, a cavallo tra 800 e inizio 900, ha una diffusione sufficientemente assodata, cioè non è considerata una cosa discutibile, men che meno inaccettabile, si inserisce non dentro il ritorno di una barbarie, ma dentro paradossalmente, ancora una volta uso questo termine, come dire, una modernizzazione, che dice che si è moderni nella misura in cui si classificano gli individui, gli individui non appartengono a un unico, chiamiamolo, ceppo, l'umanità, ma appartengono a gruppi separati, questi gruppi separati sono il prodotto di appartenenze di antichissima data, biogenetiche si dirà a un certo punto, ovviamente senza riuscire a comprovarle, perché è una cosa senza fondamento, si dirà per via della lingua, per via della nazione, per via del territorio, a me viene in mente sempre il manifesto della razza del 38, che è veramente, come dire, così come la Costituzione italiana uno la può recitare, non mi riferisco a Benigni, parlo di altre formule, perché le parole sono chiare e nette, uno le può condividere o meno, ma sono incontrovertibili, così uno si prende il manifesto della razza dove si dice non è vero che ci siano sovrapposizioni tra comunità distinte e diverse, i ceppi sono dati una volta per sempre, ci sono ceppi superiori e inferiori, generalizzo il massimo, gli italiani sono ariani, ceppo superiore, però visto che sono anche dal punto di vista somatico ed estetico assai poco ariani, sono ariani di ceppo mediterraneo. Andate a riprendere, lo trovate, sono i 10 punti, insomma, se ricordo bene, adesso cito memoria, andate a vedere i dati dell'anagrafe militare, una delle più credibili per i maschi in tempi di leva, e trovate, altezza media, un metro e cinquantotto in quegli anni lì. C'è poco da ridere, signora, io sono alto un metro e settanta, scusatemi, ma... Cioè, quindi... No, è una battuta, ovviamente. Carnagione o di vastra. Soltanto, come dire, gli alpini, cioè quelli che vengono incorporati negli alpini, che arrivavano dalle ballate, avevano una carnagione più chiara, voglio dire, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, voi, occhi azzurri, boh, i siciliani e i ceppo normanno, quello sì, voglio dire, erano un'eccezione, forse i ceppi albanesi, che si erano articolati, tra l'altro, non è vero che non ci siano contaminazioni e sovrapposizioni, ma quando mai? Basta guardare i nomi in giro delle città e dei luoghi e scoprite le antiche denominazioni, gli antichi insediamenti. Soluzione, e beh, insomma, razza aliana di indirizzo di carattere mediterraneo. Sai che roba. Per dire che si tiene tutto assieme. Per dire che si tiene tutto assieme. Soprattutto, quello che è importante ai fini del nostro discorso è che si crea una gerarchia di società. Cioè, non si dice solo che non esiste l'umanità, ma esistono le razze. Ma ci sono razze superiori e razze inferiori. La razza ebraica è, per definizione, una razza inferiore, anzi, è un'antirazza. È il veicolo del meticciato. Non c'è nulla di più ossessivo, allora come oggi, nel pensiero razzista, che si presenta a volte anche proprio con i panni del perbenismo, dell'idea dell'incrocio proprio fisico-sessuale tra persone appartenenti a gruppi distinti e diversi. E qui c'è tutto un simbolismo, anche piuttosto greve, dietro al fatto che la contaminazione avviene attraverso il contatto dei corpi. Bisogna mantenere separate le cose. L'antirazza, l'ebraismo è l'antirazza, perché contamina il corpo delle razze superiori. Non a caso è tra di noi, l'ebreo. E cosa fa l'ebreo se non il parassita? Cosa fa il parassita se non annidarsi nelle parti del corpo dove è più difficile eliminarlo? E beh, se volete, poi, potremmo, non è parte del nostro corso, far vedere qualche filmato. Ci sono anche su YouTube della propaganda nazista, poi di riflesso anche di quella fascista, che raffigurava in questi termini la contaminazione. Doveva creare un senso nella collettività di rifiuto. Capite di quanto stava succedendo, di dire sì è vero, sono un pericolo e quant'altro. Allora, riassumendo gli eventi spartiacque, se vogliamo periodizzare in questa storia qua dell'antisemitismo, ma anche, perché lo ricolleghiamo, del discorso su il movimento sionista, li possiamo condensare in tre passaggi più uno. Il più uno è quello che vedete segnato in rosso. La vicenda di Damasco, nel 1840, cioè l'accusa dell'assassinio rituale. Gli ebrei uccidono i cristiani, in questo caso, per estrarne dal corpo il sangue e per impastare le azime, il pane pasquale. E' un'antica accusa che viene recuperata, perché conta in questa vicenda qui, ma perché dietro la vicenda che succede a Damasco nel 1840, non entro nello specifico, c'è dietro lo zampino della Francia, soprattutto conta, come negli altri due casi, perché diventa un fatto internazionale. Nell'affare di Damasco, nella vicenda di Edgar Mortara, che di qui, penso al prossimo, e che di qui, che di qui. Grazie a tutti.